Uno dei problemi che si riscontrano quando il cliente rende dotta alla propria banca il proprio istituto di credito della volontà di partecipare a un esperimento d'asta è quello che il funzionario della banca che è preposto all'erogazione dei mutui e alle istruttorie non sappia e non conosca la materia delle esecuzioni immobiliari. Per evitare questo piccolo gap e questa tendenza che è molto invalsa specialmente per alcuni istituti di credito riteniamo sia più giusto e facente parte della nostra consulenza prendere contatti diretti con il funzionario della banca che dovrà poi redigere l'istruttoria. In questo modo diamo tutte le rassicurazioni dal punto di vista tecnico legale che consentono di comprendere la materia del contendere ma e soprattutto diamo tutta una serie di documenti che diversamente l'istituto di credito non riuscirebbe ad avere. Relativamente all'immobile, al proprio valore che è stato determinato in base alla perizia depositata in tribunale, l'avviso di vendita e tutta altri documenti che sono necessari proprio per l'istruttoria del mutuo.